Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi faccio questo velocissimo video di presentazione, quindi il video Cosa ne Penso arriverà poi a breve con anche una partita, direttamente sul campo. Vi presento la nuova edizione di Hail Caesar in variante Epic della Warlord Games che io ringrazio di cuore per tutti questi prodotti che mi hanno offerto e di cui vedete una rappresentazione più dietro nelle prime file. Quelle dietro è un altro gioco di cui vi parlerò comunque a breve, vi farò una piccola finestrella e poi ci farò un video dedicato. Uscito ad agosto la nuova versione di Hail Caesar in variante Epic. Cosa vuol dire? Hail Caesar è un gioco di battaglie nell'antica Roma repubblicana, quindi per la maggior parte guerre puniche, ma non soltanto, appunto dell'età classica dell'antica Roma, della storia antica, gioco della Warlord Games, uno dei più famosi, insieme a Black Powder e anche Bolt Action. Perché andando appunto su un'ambientazione storica come questa, è un titolo che è sempre stato venduto e giocato in scala 28 mm, quindi con miniature proprie, dell'Hosprey o anche della Victrix che poi vi farò vedere in un altro video dedicato. Comunque in scala 28 mm. La variante Epic che vedete qui accanto a me ci porta sul campo delle miniature preassemblate, quindi c'è da incollarle, sì, ma da incollarle giusto sulla basetta è finito, delle miniature in 15 mm, che secondo me è la scala perfetta. Perché a volte, io preferisco il 28 mm, sono sincero, però, a volte il 28 mm ci vuole un tavolo troppo grande, per il 32 non se ne parla, il 10 forse è un po' troppo piccolino, questo, per farvi capire, quest'uomo albero è un 10, scusate questa dria delle boschi, dove si vane un 10 mm, è veramente troppo piccolina, però queste sono in scala 15 mm, quindi anche una dimensione, secondo me, perfetta, per il 1,5 mm è perfetta fra il 10, che è troppo poco e forse il 28, che è un tantino grande, se uno in casa non ha spazio. Il regolamento che vedete qui davanti in formato A5 è quello di El Cesar in versione Epic, che è lo stesso fondamentalmente di El Cesar. Le regole sono sempre le stesse, ovvero che ci sono i comandanti di divisione, che guidano la divisione, quindi ciascuna divisione è il proprio comandante, che dovrà tirare due dadi da sei, e tramite il suo valore di disciplina, potrà dare tot ordini, che arriveranno da un ordine minimo, se ha superato il diritto di disciplina, fino a tre. Quindi le truppe, la truppa che ha ricevuto quell'ordine, si può muovere di uno, due, tre azioni, può attaccare, caricare, tirare, e cose varie. Quindi il regolamento è sempre lo stesso, in questo formato piccolino, c'è anche il formato grande ovviamente, ma io proprio diso che questo è un A5, anche perché mi prende meno posto, e me lo posso anche portare in giro, nel caso mi servisse senza avere un librone in mezzo. e il regolamento è sempre lo stesso. Quello che vedete qui è una rappresentanza delle forze, che hanno combattuto nella seconda guerra punica, fra la Repubblica Romana, e ovviamente i cartaginesi, di cui poi facevano parte anche Galli, Celti e quant'altro, nel mezzo, e quindi Roma Repubblicana, guidata dal grandissimo generale, Scipione l'Africano, mentre invece le truppe cartaginesi, guidate da Nibale Barca. E quello che viene rappresentato qui, non è la scatola base del gioco, nella scatola base avete più del doppio, della roba che vedete qui, ma sono due divisioni, appunto per una battaglia famosa, come la battaglia di Khan, ad esempio, o anche la battaglia di Zama, dove appunto poi, a Nibale, venne sconfitto da Scipione l'Africano, quindi potete riprodurre, tutte le battaglie delle guerre puniche, soprattutto della seconda guerra punica. E qui c'è un po' una rappresentazione di truppe, che vedete ci sono, i quattro ufficiali, per guidare le divisioni, che sono da questa parte, con i pennati, sono tutte quante le truppe di Roma, quindi di Roma Repubblicana, mandate dal Senato di Roma, e di qua vedete invece le truppe cartaginesi, quindi abbiamo un po' di truppe, a rappresentanza, arcieri, lanciatori di schermaliatori già nell'otto, di qua abbiamo i Romani Triari, abbiamo le truppe di Panteria, abbiamo i Princeps, abbiamo veramente molte truppe, che potete schierare sul campo. Come spesa, di solito dovrebbero venire intorno a una quarantina d'euro, per ogni divisione, quindi se comprate il set base, viene tipo 280-290 euro, che non è questo, se lo volete prendere a parte il gioco, il regolamento, questo mi sembra venga 20-25 euro, una cosa del genere, poi vi lascio link, sempre al solito, tanto acquistabile tutto, dal gioco del libro da simbola, che è rivenditore autorizzato, della World of Games, quindi è proprio rivenditore ufficiale. E qui invece quello Romano, tipo fate conto a una quarantina, una quarantina, altrimenti con 100, vi siete fatti tutto. Se invece volete molta più Roma, regolamento, da, di misurire e quant'altro, c'è il set base, che dovrebbe venire, mi sembra, intorno ai 250-80, tanto comunque sul sito, di gioco del libro di assieme, l'altro vedete tutto quanto. E questa è una veloce presentazione, poi ve lo farò vedere meglio, comunque ora anche avvicinandovi qualcosa. Abbiamo le truppe Romane, come vedete, pezzo unico, organizzate su tre ranghi, lasciate stare i piedi del gatto, su tre file, e vedete sono modelli, poi alla fin fine, attaccati un all'altro, e voi semplicemente andate ad incollarli sulla basetta. E questo è un distaccamento romano, quindi della fanteria romana. Queste invece sono la fanteria cartaginese, quindi fanteria cartaginese, fronte, due ranghi, al confronto di quella romana che ne aveva tre, e il retro, vedete anche qui, semplicemente le andate ad attaccare sulla basetta, le andate ad attaccare sopra la basetta, e ovviamente due ranghi rispetto ai tre delle lesioni romane, perché le lesioni romane sono molto meno la fanteria rispetto ai cartaginesi, ma perché per rappresentare appunto la forza anche di Roma, infatti avranno delle caratteristiche migliori. Comunque, come detto, Hell Caesar in versione Epic è lo stesso gioco, se avete giocato a quello del 28 mm, è uguale, con qualche regola e rifinitura per giocarla in questa scala, anche perché le distanze di movimento cambiano, cambia la dimensione della miniatura, cambiano anche il range, i centimetri o i pollici di movimento, sono più corti ovviamente, però comunque, qui trovate tutte le regole, in più modalità campagna e tutte le più grandi battaglie delle guerre puniche, in questo caso della seconda guerra punica, perché appunto abbiamo chiamato in causa fra i due più grandi generali della storia, che sono Annibale Barca e Scipione l'Africano. Quindi dateci un'occhiata, io ora vi lascio in chiusura col sito dove andarlo ad acquistare, che è sempre il gioco di Liberia Simula, e dategli un'occhiata perché, se volevate iniziare a giocare a Rear Caesar, ma non volevate spendere troppo, o non avevate un tavolo abbastanza grande, quindi posto in casa, è arrivato il momento per farlo. Piccola finestrella, come detto all'inizio del video, qua giù dietro vedete invece delle miniature in 18 mm, che vi faccio vedere da vicino, ma sarà un video a parte dedicato, della Wofan, che si parla sempre di battaglie di Roma, però questa volta romani, legioni romane contro i Galli, quindi qui si va addirittura a toccare le legioni di Cesare, che combatterono in Gallia, poi anche successivamente fanno altre battaglie, Daci e altro. Vi faccio vedere da vicino. Questo gioco della Wofan, o meglio, queste miniature della Wofan, poi regolamente usate quello che volete, anche il Cesare va bene, sono miniature in 2D. Questo gioco in 2D, sono stampate in plexiglass, predipinte, e queste sono in scala 18 mm, quindi ancora un po' più grandi, e vi arrivano a casa, guardate, fronte e retro, sono già dipinte in plexiglass, quindi anche bello duro, voi le staccate e le attaccate sulla basetta. E guardate come rendono, questo è veramente il gioco, aprite, montate, giocate, senza nemmeno di stare a dipingere. Ma come nel finale di Conan il Barbaro, questa è un'altra storia, e ve ne parlerò in un altro video. Ciao a tutti!